Con un cartellone tutto al femminile e alle mie spalle mi sono voluta circondare dei maschietti del film, ovviamente. Ciao, Mauro e Giovanni. Ciao, ciao, ciao. Allora, qui si parla di Camgirl, quindi il web, il mondo di internet, però visto nella sua eccezione forse più negativa assolutamente. I vostri ruoli sono leggermente diversi. Uno utilizza il web, l'altro un po' ne è contrario. Chi inizia? Partirei con lui. Inizio io. Poi ci contendiamo la stessa ragazza. Tra l'altro. Io faccio parte, io sono un cliente delle Camgirl, uno di quelle tipologie un po' estreme sul filo dell'ossessione che finisce poi per incontrare la sua vittima, tra virgolette, che è una cosa che capita spesso anche nella realtà in me con dei risultati un po' negativi, senza dire troppo, perché sennò svegliamo il finale, quindi non svegliamo. E invece di qua Giovanni non è d'accordo con quello che fa la fidanzata. Anche perché su questi risultati negativi un po' ci rimette. No, diciamo che il mio ruolo è quello un po' la chiave che inizia a scoprire questo mondo, rendendomi conto che la mia ragazza ha preso una strada che io non condivido, perché fatico tutti i giorni, lavoro tutti i giorni, porto avanti una realtà difficile che è una realtà che rappresenta tante realtà oggi. Infatti, come dicevamo prima in conferenza stampa, credo che questo proprio sia un film che vuole essere un monito, no? A volte faticare tutti i giorni, lavorare, ma in maniera onesta, ti porta ad avere alla fine magari una vita che a lungo darà più soddisfazioni magari di una vita che va alla ricerca di un soldo facile e che può portare in situazioni complicate come accadono alle mie ragazze e come accadono ad altre ragazze. Però diciamo sì, siamo un po' rivali, rivali in amore. Sono rivali, ragazzi, io li volevo vicini per questo, ma il vostro rapporto col web qual è? Beh, eh... Con i social, ora, non so se andate proprio in cam voi? No, 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 ancora. Rivelazioni scottanti, ragazzi. Ancora, il mercato maschile si diceva che era, insomma, bisogna aumentarlo questo mercato. Sì, infatti, potrebbe esserci un sequel, noi stiamo iniziando ad andare in palestra per cercare di migliorare le nostre prestazioni perché penso che oggi probabilmente non avremmo lo stesso successo, però ci stiamo provando per un sequel dove potremmo mettere... Le loro facce al posto delle ragazze dietro di me. Però ricordatevi che ce ne deve essere per tutti i gusti, eh? Sì, sì. Lui è quasi pronto. Io sono un po' più indietro, ma ci sto lavorando. No, come sa, a parte gli scherzi, che rapporto, ora, non vi chiedo se entrate, non lo voglio sapere, ma che rapporto avete con i social? Che comunque sono sempre, no? Si vede un sacco di ragazze e ragazzi che fanno selfie, come si dice adesso, no? Che li mettono e sono sempre un po' più spinti, no? Voi che rapporto avete? I social ne parlano male molti, ma poi li usano tutti per un motivo, per un altro, per gli amici, per lavoro, per parlare di sé, quindi li usano tutti. Quindi sì, anch'io li uso e il rapporto in generale con internet ha sostituito anche la TV, la televisione, per la fruizione di film. Quindi ci passo troppo tempo, ora che ci sto pensando con te, ecco, devo fare qualcosa. Andiamo a prendere tutti un caffè. Te invece? Eh, no, vabbè, sono d'accordo con lui, nel senso è un utilizzo quotidiano, cioè, l'internet ci serve per messaggi, ci serve per rimanere in contatto con le persone. Il social è, secondo me, un'ottima invenzione. Può essere un veicolo per lavorare, può essere un veicolo pubblicitario, abbiamo visto oggi quante persone lavorano, hanno inventato lavori utilizzando questo. Io apprezzo, perché quando ci sono delle idee alla base, sono idee che funzionano, sono sicuramente da apprezzare. Ovvio poi ci sono degli abusi, come in tutte le cose del resto, queste cams sono uno di questi abusi e bisognerà, si spera che in futuro possa essere, diciamo, regolamentato diversamente questo. Più che altro, non tanto per l'utilizzo che queste ragazze ne fanno, perché io non condanno l'utilizzo, perché che lo facciano via internet o che lo facciano come negli anni passati, di forme diverse, non è tanto quello, è lo sfruttamento che c'è dietro queste ragazze, perché non conoscono questo mondo, non sanno che rischi corrono, soprattutto da un punto di vista di sfruttamento di diritti, di immagini. E quindi questa è la parte, diciamo, più brutta. Quindi bisognerebbe, diciamo, anche una forma di regolamentazione diversa, potrebbe tutelare maggiormente queste ragazze, che sono poi libere di fare una scelta, perché come ha detto Mirka prima, ci sono ragazze che lo fanno per scelta e sono libere, sono libere di farlo. Si spera che vengano un po' più tutelate, diciamo. Chissà, staremo a vedere. Innanzitutto l'appuntamento è dal 22 maggio con Camgirl e con questi due bei giovanotti al mio fianco, detta così sembra molto vecchio stile, ma va bene, io lo sono. Ragazzi, grazie mille per essere stati con me. Amici di Fan Week, venite al cinema dal 22 maggio, Camgirl. Vi aspettiamo.